Allora faccio i complimenti alle ragazze, abbiamo centrato le semifinali anche quest'anno e abbiamo fatto secondo me una buona partita con personalità, migliorando rispetto a martedì e quindi obiettivo raggiunto, adesso abbiamo dieci giorni dove ci concentreremo sul nostro sogno e aspetto tutti i tifosi a sostenerci anche durante gli allenamenti se volete abbiamo bisogno del calore di tutti per cercare di coronare l'ultima impresa, l'ultimo step.